bentornati in diretta tv 7 alle 7 stiamo parlando della famiglia safilo ipotesi d'accordo abbiamo qui tantissimi che la vivono sulla loro pelle la situazione operai quindi gente che lavora gente semplice come noi tanti sono gli sms che stanno giungendo io vi ringrazio per la vostra partecipazione sia come domande che come appunto supporto agli amici della safilo noi stavamo parlando di imprenditoria stavamo parlando di ricchi manager che arrivano con macchinoni e che spesso vengono strapagati mentre chi fa l'azienda è il lavoratore io vorrei ricordare una piccola una piccola quisquiglia la differenza poi tra l'imprenditore no l'imprenditore il manager e l'operaio è che loro una volta che hanno perso il lavoro sono liberi professionisti possono a soldoni essere assoldati in altre aziende oppure possono anche voi in by per un po perché loro perché tanto hanno preso i bei soldoni esatto noi voi avete una vita alle spalle come seri professionisti di un settore quindi se io domani vi chiamassi per fare tutt'altro bisognerebbe riqualificarvi e non è semplice perderei un'eccellenza che è stata formata in anni di esperienza per ripartire da zero quindi avere il pivellino si dice di solito o il novellino vorrei sentire una delle ultime persone che non ho ancora citato salutando la famiglia benetton di cui tu sei sponsorizzata si lamentano la sasilo ma in realtà stanno bene scherzo per risollevare un pochino il morale non ti preoccupare è effettivamente così cioè se voi non avesse avuto almeno la forza la grinta di strappare il contratto di solidarietà si cosa facevate adesso che non sapevamo mobilità potevamo fare mobilità avremmo perso il posto di lavoro non sapevamo chi è chi toccava quindi eravamo un attimo spesati non sapevamo eravamo veramente persi persi eravamo veramente persi quei giorni la non sapevamo anche perché a lungarone nella nostra zona come mai la vostra zona è la più tartassata la più problematica diciamo così allora la nostra zona va bene il nostro stabilimento come dire la safilo a direzione safilo ha sempre voluto identificare bene ogni stabilimento lungarone metallo santa maria di sala faceva un altro tipo di occhiale oltre metallo a ormosh perché c'è anche un stabilimento ormosh plastica e tutte cose così dunque se c'è un calo di vendite sul metallo ecco che ne risente di più stabilimento di lungarone dipende tutto dal mercato dalle vendite che ci sono in più lungarone per tanti anni è stata costruita e come dire il lavoro è basato o si va a tagliare legna cioè voglio dire o per anni hanno aperto industrie dell'occhialeria vedi il cadore che adesso è quasi morto meno male che adesso stanno tirando su le maniche e cercano di si sono riproposti come agriturismo come si sono si stanno centrando più sul turismo ma senti a voi ha fregato un pochino il fatto della concorrenza leale o sleale che sia non mi addentro nella tematica da parte dell'oriente oddio si dà sempre colpa all'oriente italiano che va là è lo stato italiano che non dà la possibilità all'imprenditore italiano di rimanere qua lo stato italiano che non non si prende cura del made in italy e di quello della potenzialità che ha il lavoratore italiano la qualità del lavoratore italiano di qualsiasi settore tu dici che effettivamente sempre così al cento per cento io mi preoccupo dei problemi a casa mia e qui le pago 50 più contributi piuttosto che quasi 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 per la ricerca italiana mi tartassa qua sì però l'anno mi chiederanno il contratto di solidarietà non mi romperanno le scatole dalla mattina alla sera io non so se sei al corrente della realtà cinese non ho capito non so se sei molto al corrente della realtà dell'industria cinese allora non ti può essere passato che magari la città è una popolazione che fino a dieci anni fa anzi fino al 1997 quando hong kong è passata dal da essere colonia inglese alla cina popolare ok la cina i cinesi stavano tutti là perché comunisti stavano tutti là avevano tutte le frontiere tutto chiuso da quando sono passati sono riusciti a riprendersi hong kong che è un porto ecco che si è aperta la cina e il popolo cinese la maggior parte è un popolo di contadini ok dunque le aziende l'industria in cina hanno il problema che questi qua ogni tot mesi all'anno questi spariscono dall'industria e vanno a coltivarsi loro il loro praticello poi ritornano hanno un turnover pazzesco ed è per questo che hanno anche problemi di qualità perché non riescono a costruire comunque una qualità buona il vantaggio che all'industria l'industria l'industria l'italiano andare nei paesi esteri è perché oltre avere meno spesa va bene per quanto riguarda la mano d'opera però anche meno spese per quanto riguarda spedizioni cioè c'è un mercato nuovo come l'asia gli occhiali per gli asiatici vengono fatti direttamente nel stabilimento in cina dove hanno delle tipologie anche fisiche diverse dalle nostre dunque loro hanno il naso diverso le orecchie più più corte ecco e tu risparmi anche in questo cioè non pensiamo solo che l'oriente e la cina o quello che è ci frega il mercato perché la roba viene fatta la dopo viene rispedita qua la maggior parte viene fatta la è venduta anche la guarda per un imprenditore italiano forse l'ha risultato e non me la sono inventata io che forse sarà questo problema dei turnover per i contadini che vengono inseriti anche nel mondo del lavoro minorenni e questo è l'ultimo scandalo che è emerso ma sai quanti ce ne sarebbero quante ce ne sono stati e stiamo parlando e abbiamo le magliette ancora di quella che dell'iphone e non solo in più pensala così guarda non c'è bisogno di andare fino in cina perché in questa parte dell'italia sono già pronti qui a cucire e a inserire tutte le etichette per far fingere che poi sia made in italy e sto parlando dell'indotto tessile quindi queste persone non devono correre in cina per andare a fare ciò che fanno i contadini rimangono qui e prendono un euro magari al mese adesso la sto sparando e fregano a te lo stipendio chi glielo permette chi glielo permette lo stato italiano che non va a massacrare questo tipo di lavoro se io non pago il camionerai mi vengono e mi fanno il mazzo tanto oppure aspetta un attimo ci potrebbe essere una comodità alle spalle da parte dei grossi nomi che dicono no 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 lascia tutto tranquillo caro stato italiano prenditi questa fetta di della torta perché a noi questi fanno comodo l'hai mai pensata così la sto sparando molto grossa l'ho anche pensata così a volte gli imprenditori potrebbe essere una scemata quella che ho appena detta o magari potrebbe essere vero ne ho sposato uno e vedo la veramente vedo la difficoltà che hanno a questo è un mio parere personale la difficoltà che hanno ad affrontare giornalmente il lavoro il mondo del lavoro una volta si diceva ok sei imprenditore sei pieno di soldi qua e la adesso no vivi guarda per volte sopravvivi come mi hanno insegnato che l'imprenditore del nord est è stato gasato montato pompato da ciò che era la centralità e macchinona finta come diceva appunto giannino facciata e poi magari l'imprenditore che cos'era che aveva un capannone con un tornio era già imprenditore quindi poi quando sono arrivate le vere problematiche quando le commesse non arrivavano più il macchinone rimaneva fermo oppure bisognava vendere tornio il ricco nord est è partito in questa maniera in cui azienda è fatta di micro imprese esatto è stato questo il l'aspetto che ha portato il bene e il male però erano dei lavoratori che uscivano dalle aziende che avevano la qualità in mano la conoscenza della filiera del po e hanno deciso di scommettare il proprio e molti di questi vuol dire hanno fatto una fortuna molti questi invece sono giocati gioielli di famiglia vuol dire mari la casa e anche il capannone hanno fatto leasing hanno investito hanno chiesto mutui alle banche poi alla fine vuol dire molti di questi con grande rispetto che non sono in grado di pagare gli stipendi dei lavoratori o di non far fronte ai leasing all'impegno sono presi con le banche voglio dire si trovano in difficoltà è un problema anche morale per qualcuno qualcuno fa il furbo qualcuno magari sfrutta anche queste situazioni ma altri voglio dire no credo credo che bisogna distinguere tra imprenditore e come diciamo noi in dialetto tra pradorone o paron o imprenditore sono due tipi diversi però vorrei tornare sostanzialmente alla safiro che mi pare che la cosa importante è ovvio che il governo ha una complicità con i grandi gruppi perché mi viene a mente dico una battuta solo so che qualcuno si incazzerà però voglio dire avere sette anni di cassa integrazione speciale di scivoli per l'alitalia e qui invece dobbiamo discutere come capire dare risposta magari al lavoratore dell'artigianato che non prende lo stipendio per quattro mesi cinque mesi sei mesi e alla fine rischia anche il lavoro senza mobilità credo che questo siano i grandi gruppi che discutono e dialogano con il governo per avere alcune opportunità però sono opportunità alla fine che mettono un po riparo il capitale ma danno anche delle risposte ai lavoratori dobbiamo anche stare attenti a questo perché quei lavoratori oggi per esempio alla safiro noi la chiamiamo l'ipotesi di accordo ed è vero che un'ipotesi di accordo però direi invece che abbiamo risolto almeno risultato avuto un buon risultato perché di fronte a mille posti di lavoro che andavamo a perdere perché non c'era più armani cioè mancava il lavoro non è che qualcuno ha deciso di dire c'è il brutto il cattivo e le anatrocole allora li spediamo a casa mancava quella parte di fatturato di lavoro del lavoro in affitto che dava armani alla safiro che non c'è più andato da un'altra parte poi quel signore che l'ha preso dall'altra parte ha fatto i suoi interessi probabilmente ha preso una parte del lavoro che aveva l'ha decentrato in cina in qualche altra parte e armani se l'è tenuto dentro ma non ha aumentato ha aumentato il fatturato ma non ha aumentato almeno a quanto mi sa dire i posti di lavoro però parliamo di una ipotesi di accordo perché ipotesi di accordo i lavoratori l'hanno nelle assemblee perché li abbiamo fatti votare perché la democrazia vuol dire questo queste che sono i rappresentanti i lavoratori le lavoratrici che hanno rapporto quotidiano con i propri colleghi sono le RSU assieme al proprio sindacato hanno fatto con l'azienda un accordo ipotesi di accordo poi siamo andati nelle assemblee a cui abbiamo spiegato la parte positiva anche la parte negativa di tutto ciò perché siamo in difficoltà la crisi ha toccato anche le grandi aziende non ha toccato solo le piccole risultato abbiamo fatto questo il lavoratore ha detto che vanno bene e andremo adesso al ministero a firmare il contratto di solidarietà che dà certezza e garanzia e sicurezza almeno anche a quei mille posti di lavoro che prima erano in allora giannino vi rubo un attimo di tempo per premiare ce l'auguriamo una nostra telespettratrice perché tu sai che mentre parliamo amabilmente con voi stiamo anche giocando con il nostro quizzettone per coinvolgere sempre di più le persone allora in berlare è da tradurre dal veneto all'italiano la signora monica al telefono buongiorno monica a tutti buongiorno come sta bene grazie sento una voce giovane come sento una voce giovane abbastanza dai bene dai ci segue spesso si ha seguito anche un posto sempre beh meglio vuol dire che comunque ad affare da lavorare giusto certo esatto bene ha sentito un po anche la situazione della safi lo è che io dopo tutta la mia solidarietà grazie alle presenti e anche chi è a casa veramente una situazione se la monica sarebbe bello che la solidarietà e non solo fosse dal governo però aveva noi ci accontentiamo anche di chi invece è a casa spettatore della questione allora dove chiama signora monica mi faccio un po gli affari suoi io sono di arsiero in provincia di licenza a che bel posto arsiero lo conosco bene molto ventilato sì ma posso lamentarmi mi sono fatto con la bicicletta proprio questo weekend arsiero era così molto bello soprattutto la parte della ferrovia della vecchia ferrovia è l'opera l'opera più bella che hanno fatto dalle nostre parti secondo me allora complimenti per il bel posto la bella aria la bella gente monica cortesemente la risposta per quanto concerne la traduzione dal veneto all'italiano di in berlare torcere bravissima risposta esatta mi raccomando si metta in collegamento con la nostra nicola per venire a ritirare il premio quasi quasi sarei tentato visto che frequento la zona di portarglielo io portarglielo personalmente allora un saluto a monica grazie a voi grazie 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 allora noi proseguiamo con ciò che è il nostro dibattito mi sono permesso durante la pubblicità di chiedere una cosa personale perché sono famoso per saper riconoscere gli accenti qualcuno mi arriva insomma dal bel sud italia e tanto tempo fa per giunta 14 anni fa 15 anni fa con le speranze di arrivare nel ricco nord e quindi crearsi la propria famiglia le proprie speranze e un proprio futuro solido la risposta è stata appunto quella di riuscire invece oggigiorno ad avere come abbiamo intitolato un'ipotesi d'accordo per il proprio futuro come vivi questa delusione e come vivi il futuro allora l'esperienza che ho avuto qui in veneto intanto diciamo che a livello lavorativo è stata una bella esperienza anche perché lavorando per una multinazionale sicuramente non è diciamo come lavorare a livello privato cioè non è un lavoro come lo si guarda normalmente sia a livello organizzativo e anche perché comunque si ha la possibilità di avere delle conoscenze e una preparazione anche diversa naturalmente si è avuta la delusione del fatto di avere questi esuberi proprio nell'ambito dell'azienda dove lavoro effettivamente mi ha fatto pensare mi ha fatto pensare perché al di là del fatto che conoscendo una realtà lavorativa quella del sud che è assolutamente diversa di come viene posta al nord perché abbiamo due realtà completamente diverse e giustamente comincio a fare dei conti voglio dire a livello personale perché effettivamente c'è una delusione nel senso proprio di vita perché alla fin fine pensare di poter perdere ancora il posto di lavoro e comincio a fare due conti e dici speriamo di non perdere il posto di lavoro altrimenti cosa si fa perché effettivamente io essendomi già spostata proprio in cerca di lavoro a questo punto sarebbe una delusione grande perché comunque si lasciano per la famiglia ma anche perché si è lasciato già i propri affetti le proprie amicizie le proprie sicurezze diciamo a livello psicologico e comunque sono ottimista da questo punto di vista perché comunque siamo riusciti a fare una bella lotta e speriamo comunque di avere sempre il meglio per il futuro considerando sempre il fatto che si lavora per una bella azienda come avete vissuto però quei giorni famosi in cui è arrivata la doccia fredda? guardi datemi dei tu vi prego ve lo sto dando io e voi mi date delle hai ragione scusami no l'abbiamo vissuta molto male per noi è stata una doccia fredda perché proprio dall'oggi al domani è stato proprio così praticamente ci siamo svegliati alla mattina siamo andati a lavoro e abbiamo sentito ma sai hanno detto che ci sono mili esuberi e addirittura sono pronte già le lettere perché è riuscito anche già le lettere quindi la famosa scendere ma in negativo esatto non in positivo esatto per cui uno dice madonna mia cioè ma cosa sta succedendo avete iniziato a pensare ma io sarò dentro fuori sì esatto io ci sarò dentro sarà essenziale ma l'azienda io sì tu no tra di voi scambiando di queste opinioni così e mamma mia è stato proprio black out black out poi vedevi proprio un po' anche non voglio esagerare però diciamo un po' di disperazione soprattutto per chi praticamente c'è dentro tutta la famiglia perché c'è la moglie c'è il marito e insomma poi hanno impegni voi siete tutti comunque a contratto a tempo fisso esatto indeterminato io penso a chi aveva avuto che ne so i famosi co 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 tutte queste situazioni i contratti a termine 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 sono stati i primi questi sono quelli che erano vi chiedo persone giovani quindi ragazzi la maggior parte sì almeno per quanto riguarda la zona di Lungarone c'era la delusione di aver trovato c'era anche qualcuno che aveva già avuto alle spalle delusioni da parte di altre aziende che era venuto con la speranza di di trovare lavoro dopo due anni di avere pensato fisso invece è rimasto a casa però io adesso Emiliano vorrei tentare di guardare al futuro perché la situazione è stata difficile pesante l'abbiamo giocata ci siamo messi in gioco tutti quanti abbiamo criticato l'azienda per gli errori perché è ovvio che errori ci sono stati fatti però io dire dovevamo guardare al futuro non potevamo piangere sulle lacrime altrui perché aver perso Armani ha comportato un migliaio di persone una diminuzione del fatturato ma è ovvio che il grosso capitale tende a difendere se stesso noi dovevamo difendere anche i lavoratori ho usato il termine anche perché se c'è un'azienda c'è anche il lavoro e ci sono i lavoratori se non c'è l'azienda non c'è allora la discussione che abbiamo fatto con l'azienda è quella di dire cosa mettiamo in gioco affinché ciò possa guardare al futuro dare sicurezza per quanto riguarda il lavoro alle maestranze e alle dipendenti tutti non pagare prezzi dal punto di vista economico se era possibile non pagare prezzi dal punto di vista delle esuberi e di conseguenza tagli occupazionali e cominciare a giocare effettivamente anche dal punto di vista professionale interno e anche per quanto riguarda il mercato del lavoro su questo l'azienda ci ha risposto positivamente ovviamente dobbiamo dirlo l'abbiamo usato come ipotesi di accordo ma in realtà sta diventando un accordo anzi è un accordo vero e proprio perché lo sigleremo entro la fine di questo mese al Ministero del Lavoro perché è quello che ci dirà sì va bene il contratto di solidarietà contratto di solidarietà che ci ha permesso di mantenere dentro tutti prima veniva fuori che avevamo circa centinaio, cento e quattordi per la precisione lavoratori con contratti a tempi determinati contratto a tempo determinato tutti lo sanno cosa vuol dire quando accetti di andare a lavorare in quella maniera sai che inizi e poi hai una fine e quello ha avuto fine ci dispiace diceva prima Barbara hanno fatto una grande festa perché erano colleghi di lavoro erano compagni di lavoro che avevano bisogno anche loro di dare delle risposte alle famiglie però abbiamo tentato di superare anche questo abbiamo detto nel restante cosa si fa azienda investi fa ricerche di mercato prova soluzioni diverse trova delle griffe nuove cioè vuol dire dal punto di vista commerciale fai tutto quello che è possibile su questo l'azienda ha risposto positivamente c'è una parte di investimenti cospicui che in un momento di crisi un momento di difficoltà non è facile farli molti maresi 9 milioni credo 9 milioni di euro si parla di milioni comunque importanti la seconda altra questione è quella di dire si porti il lavoro all'estero perché non cominciamo a riportarlo riportarlo in Italia e l'azienda si è impegnata su questo porterà aumenterà la capacità produttiva di quello che c'è attualmente sia a Longarone e per quanto riguarda anche Santa Maria di Sala per quanto riguarda la logistica a Padova ci permette di recuperare ulteriore persone infatti con questo tipo di impostazione riusciamo a recuperare con un lavoro che era da un'altra parte non in Italia da un'altra parte dell'Italia e dunque dell'emisfero nostro recuperare dai 200 ai 250 persone che non è da poco e l'altra questione importante dal punto di vista nostro è quello di dire facciamo formazione formazione che permetta di avere la fungibilità dei lavoratori di essere più utili al processo produttivo perché se uno fa un è monomansione monolavoro se quel lavoro se quella mansione viene a mancare io ho perso tutto è come uno che sa guidare solo la macchina domani mattina per legge dovesse tirare via le auto uno non può andare né in bicicletta né in motorino né in corriere cioè non ha più altre possibilità e allora riuscire anche a fare formare i lavoratori e su questo l'azienda si è impegnata sicché grandi discussioni grandi battaglie molte sofferenze però pensiamo che sia un accordo che guarda al futuro che impegna l'azienda dall'altra parte ma dà anche delle risposte ai lavoratori in maniera particolare all'economia del territorio perché se uno non prende lo stipendio anche il resto soffre perché non c'è consumo non c'è acquisti ecco sicché tentiamo di andare oltre rispetto a questo e credo che sia una la soddisfazione che hanno dato i lavoratori per esempio siamo andati a quasi 3.000 dipendenti complessivamente in tutti e tre i stabilimenti e posso tranquillamente dire che abbiamo avuto una manciata di astenuti e posso tranquillamente dirlo perché non ho ombra di dubbio perché il voto l'abbiamo fatto palese sicché tutti potevano sapere a cosa si stava esprimendo in quel momento e abbiamo avuto tre contrari su quasi 2.800 dipendenti se che voglio dire mi pare che sia stato un pubblicito quasi bulgaro però non è che era bulgaro è che effettivamente grazie ai lavoratori grazie all'RSU siamo riusciti a incastrare l'azienda a portarla a un tavolo di trattativa guardando al futuro e non dando una risposta al contingente all'immediato perché se dava una risposta al contingente all'immediato si mandava a casa mille lavoratori il capitale l'impresa si sarebbe in qualche maniera portata nel suo fortino e i lavoratori sarebbero andati a casa a casa vuol dire mobilità vuol dire ufficio per l'impiego ufficio di collocamento certo certo e con le aree che tirano nei territori nessuno escluso probabilmente ci sarebbe grande Giannino avevo solo un'ultima domanda volevo capire però come mai Armani ha scelto la concorrenza vi siete posti mai questa domanda più di una volta sicuramente perché a volte si è ottusi si tira avanti ma non mi sembrate ottusi quindi vi sarete posti il mea culpa piuttosto che allora Armani saranno i costi ha dato la licenza a produrre alla luxottica è ovvio che lì non c'è né il sindacato né i lavoratori a quelle trattative perché è il capitale che decide dove andare a produrre sono secondo noi tre cose che hanno giocato la prima probabilmente i servizi e le qualità perché se uno ha un servizio e una qualità importante probabilmente rimane secondo dall'altra parte credo che la luxottica abbia offerto dal punto di vista produttivo qualcosa di diverso che magari la Safi non era in grado di dare in quel momento ma la cosa più importante che nessuno dice è che Armani ha un pacchetto azionario dentro nella luxottica cioè è dentro come azionario cioè è azionista è un pezzo di proprietà allora se io sono proprietario un pezzo proprietario anche della luxottica è ovvio che sarà più facile che porti il tutto a casa mia che non lo dia in affitto o in visi ad altri ma da quando e poi chiudiamo perché sono già le 10 da quando è azionista Armani? da più di 10 anni è da più è a voi la commessa quando è stata iniziata da 10 anni è strana sta cosa ci ha messo 10 anni non ha comparto subito di là perché non poteva perché avevano quando si fanno quei contratti non è che tu ti do la possibilità di produrre col mio marchio e te lo do in leasing per un anno cioè il contratto è fatto come si può dire aveva 10 anni la sua durata è terminata la durata del contratto è scaduto il contratto e lui ha deciso di andare dall'altra parte quello che ci rammarica però il termino così è che mi piacerebbe che Luxottica però darsi una risposta dal punto di vista occupazionale ha portato a casa un risultato di carattere economico e di carattere occupazionale perché produce la domanda è dove lo produciamo? se in Safilo c'erano mille persone che lavoravano per Armani mi piacerebbe che altrettanto fossero occupati anche di là io vi saluto vi ringrazio grazie per tutto ciò che ci avete insegnato ci avete regalato come esperienza vostra purtroppo non positivissima di vita vi auguro tanto insomma bene grazie alla emittente TV7 perché da sempre voce ai lavoratori e alla gente che effettivamente soffre e ha delle difficoltà questo è un po' come potrei dire la cassa di risonanza del popolo vero grazie ci fa piacere che hai avuto questo colpo d'occhio sulla nostra emittente quello che veramente cerchiamo di fare quotidianamente è la verità noi torniamo domani mattina dalle 7 alle 10 vi ricordiamo da consigli per gli acquisti quindi da palinsesto TV7 con voi insieme a Elena Cognito che mi fa il doppio turno oggi anche alle 21 con speciale sera insieme a sempre Elena Cognito e vi ricordiamo mercoledì da non perdere alle ore 20